Dal luogo abituale dello spaccio a zona luci rosse e non solo. Ecco come si presenta il Colle del Pionta agli occhi di chi ogni giorno frequenta il parco e che ha segnalato alla nostra redazione quello che sembra essere un nuovo fenomeno. Non fanno quasi più notizia infatti le siringhe rinvenute ai piedi delle piante, nell'oliveto o in mezzo ai platani, quasi a ridosso della rete che delimita il campus universitario. È davvero troppo facile imbattersi anche in confezioni di profilattici abbandonate sull'erba e nascoste a metrata il fogliame con i preservativi lasciati lì a poca distanza. Insieme ad assorbenti, cartoni, biciclette abbandonate, bottiglie e cocci di vetro, segno che il Colle del Pionta, soprattutto nelle ore notturne, non è solo un'area di spaccio ma molto probabilmente offre rifugio a senza tetto e non solo. Ciò che colpisce sono anche i segni lasciati dai focolai accesi da chi, forse più che per difendersi dal freddo, ha cercato di prepararsi un pasto. Ecco infatti nei pressi del palco, che una volta ospitava alcuni appuntamenti di Arezzo Wave, una griglia per barbecue e un sacco di carbone lasciati lì da pochi giorni. Sul muro esterno della ex segreteria dell'università, dove oggi c'è il bar del campus, i segni inconfondibili di fumo. Segno evidente che qualcuno ha acceso un barbecue utilizzando quello spazio angusto e coperto in parte dal tetto della struttura per accendere un fuoco. Stessi segni anche alla base di questo platano, dove l'ipotesi di un barbecue di fortuna è avvalorata dalla presenza di carbone e cenere. Chiari segnali dunque di una zona, quella del Collo del Pionta, che da area dello spaccio sembra oggi ospitare un fenomeno completamente diverso, ma per questo non meno condannabile.